Il football director della Juventus ambisce nel breve periodo a contronarsi di alcune delle figure in cui ha lavorato in maniera più profigue nelle ultime stagioni, figure come Pompilio, suo imprendensibile vice ai tempi del Napoli e collega fedele fin dall'esperienza del Carpi, o come Stefanelli, attualmente impegnato a Pisa. Giuntoli vorrebbe tornare a formare la squadra Scutink che aveva a Napoli e quindi quello schieramento che prevede ai posti di comando nel settore Micheli e Mantovani. Nell'ultima estate rimasti alla pendici del Vesubio, lì dove però, qualche mese più tardi, i rapporti con il padrone dei laurenti non sembrano più i dilaci, come all'ove. Il contratto dei due dirigenti azzurri è in scadenza a giugno 2024. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!